Pagherei per vedere la faccia tua quando ti rendi conto che con soli 19,90€ te puoi mangiare pure 30-40 hamburger Ci troviamo da Chattanuga, Saluna, Pomezia e preparatevi Sì perché tutti i martedì con soli 19,90€ potete gustarvi tutti i loro hamburger all you can eat Utilizzano solo carne fresca e il locale è veramente molto bello Ma veniamo agli hamburger Tutto quello che vi sto facendo vedere in questo video, tranne il pullet pork e il pollo fritto, lo potete richiedere burger singolo, doppio, triplo o quadruplo Io ho provato praticamente tutto il loro menù di hamburger Quello con la burrata intera era veramente molto delicato Quello col pullet pork fatto in casa mi ha ricordato i sapori di una volta Regà, pullet pork così buono non lo mangiavo in giro da veramente diverso tempo Il pollo fritto con cheddar e bacon, che dire, mi ha fatto sentire bambino E quindi ci ho aggiunto pure due patatine fritte Ah sì, tutti i loro hamburger sono ovviamente accompagnati da patatine Il doppio hamburger con cipolla rossa caramellata di tropea era molto buono Talmente buono che mi ha fatto venire voglia di prendere un quadruplo cheeseburger bacon Raga, questo era un mostro E a chiudere, un triplo cheeseburger bacon con anelli di cipolla fritti Insomma, raga, se siete appassionati di hamburger, fate un salto da Chattanooga Saloon Hanno due sedi e ve le scrivo in descrizione Ma prima, seguitemi e salvate il video per non perderlo Bella Bella